Nella sua vita ha solo avuto alti nella carriera o c'è stato anche qualche basso? Beh, quando mi sono lasciata con Gabriele è stato molto difficile perché i registi pensavano che io ormai mi fossi abituata alla metodo Lavia io ero rimasta sola i produttori dicevano ah va bene, sì facciamo uno spettacolo con la guerritore ma c'è anche Lavia per cui era come se io non consistessi da sola Lei ha raccontato spesso della sua passione con Giancarlo Giannini tanti anni fa Basta, no, la cosa che mi aveva divertito è che lei ha detto lui è partito per New York e si è messo con una che era la mia brutta copia Certo, quando l'ho detto ero inferocita abbastanza Comunque poi con una certa soddisfazione durante diciamo una scena che avete girato insieme No, basta, mi rifiuto perché la gente non ne può più Di sentire questa stessa storia Sono passati trent'anni Ma quando l'ha rivisto dopo diciott'anni però un po' un brivido l'ha trovato? No, niente E infatti cito spesso anche nello spettacolo che faccio Proust E pensare che ho pianto, sofferto, voluto morire per una donna che non amavo Virgola che non era nemmeno il mio tipo Senta però su quel set della lupa dove hai rivisto Giannini c'era pure la uova ma non era meglio? No perché c'aveva la frangetta Gabriele continuava a togliergliela Ed era un pochino alle prime armi E quindi no, Raul poi troppo bello, un po' sportivo, nuotatore Che schifo giustamente Non era il mio tipo Comunque una storia molto importante Invece lo dicevamo prima nella sua vita è stata con Gabriele Lavia Attore, regista famosissimo Però lei ha detto È un regista che non si accontenta di stare con una persona La dirige Perché? Si sentiva poca autonoma? Perché? No perché ha questo atteggiamento Che in parte, in parte o anch'io un pochino Sistema le cose Solo che lui le cose le sistema pure a casa Senza contribuire però d'un tot E quindi lui sistema le cose e poi io faccio Poi dal 2010 invece è sposata con Roberto Zaccaria Sì però stiamo insieme dal 2000 È sempre felice il suo matrimonio? Sempre contenta? Molto, molto, molto Non mi sembra siano passati neanche vent'anni Però abitate in due appartamenti diversi Così sono bravi tutti Ma no, ma no Ha detto lei? No, questo l'ho detto io nel primo libro che ho fatto nel 2010 No, no, abitiamo nella stessa casa E anzi in questi giorni che fa un freddo cane Ci siamo trasferiti nell'ala sud della casa Perché abbiamo due camere da letto Una a nord, una a sud E siamo andati in quella a sud Che era delle bambine una volta Quanto è grande sta casa? Cioè due camere da letto